In questi cinque anni, insieme a Nichi Vendola, siamo cresciuti con la Puglia migliore. Vi abbiamo mostrato una sinistra di governo. In questa maniera la sinistra in Puglia risponde alla crisi. Oggi i lavoratori hanno un contratto e quindi una speranza. Sinistra ecologia e libertà dice no ai precari a vita. Il coraggio di scegliere la sinistra. Stiamo lottando per la scuola dei nostri figli. Il nostro paese è la nostra prima risorsa. L'acqua è di tutti, l'acqua è pubblica. Il mare delle nostre coste è già il nostro petrolio. La Murgia non è una periferia. Noi scegliamo lo sviluppo e la tutela ambientale. Non diremo mai sì al nucleare. Abbiamo scommesso sui nostri giovani con i bollenti spiriti e i principi attivi. Siamo così lottando a fianco di Nichi Vendola e del presidente Vendola. Ci abbiamo messo la faccia e ce la mettiamo ancora. Da sempre al servizio della Puglia. Non di lui a fare nott shelta i likeni. Siamo così far. Siamo così lottando a fredda.